oh no stiamo davvero registrando overwatch per davvero ci sono anch'io questa volta pensa un po' ma è l'anniversario di overwatch non gli ho fatto il regalo invitami al party per un attimo che cazzo è quell'avatar va bene aspetta che siccome c'è l'anniversario ho visto che hanno messo nuove skin quindi fammene vedere un attimo quindi abbiamo la diva quella anni 30 america aspetta era ispirata mica una modella non lo so perché sono ignorante come una capra su queste cose poi abbiamo lui me lo ricordavo fa cagare sta schifo c'è quella di fara c'è quella di fara che è la beduina cosa è orribile però vabbè ok e poi ah ma c'è quella di genji poi c'è quella di genji che è un power ranger cioè io quello che vuoi ma voglio questa cosa nella mia vita tempo stimato 35 secondi o non so non sono preparato per questi tempi di attesa così lunghi no assolutamente 3 34 35 mi hai mentito sono tentato di fare qualcosa che non so usare completo no 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 non Winston ok va bene Paco no vabbè aspetta questo memmi non l'aveva ancora fatto nessuno eh no dai ti mette un po' di lamurtù ma basta che ti muovi ciao davvero davvero mi dai qualche billetto per il concerto zica certo ma com'è che tu hai razzi brutto bastardo perché sei tu che mi velocizi idiota no tu hai razzi ma una vera c'è stata ah perché Winston è a Rambe allora io ho un'idea migliore potremmo andare tipo la qua a fare spawn qui ma anche arrivano da destra questo genji che pensa di ribattarmi le cose avevo visto una tracer ciao tracer perché tanto non ti vedo vero eh infatti dovrebbe oh merda ottiti in culi ciao crack che cosa ciao come va? ripetimi cosa faccio com'è? aspetta che devo ammazzare Riker è bello fare fuori genji mi ricorda forza dobbiamo controllare questa zona ma fuori stai eh si eravamo rimasti che muori ciao si si proprio genji che prova a deviare i raggi elettrici genji come te devo dire che non mi fai nuvia siamo forti guarda che bello che so si ma chi cura sei Walker Texas Ranger che cazzo tu non è McCree tra l'altro io faccio cagare con McCree che cazzo è successo? vabbè ok facciamo che Avon si fiero di me ah ma siamo ancora contro Shrek è tempo di Kunai with Chain Kunai with Chain Che cazzo è questo? Yeeeh siamo forti siamo forti facciamo schifo bene Ma come dove cazzo stai andando? Blancare quanto cazzo è forte sto coso? Ho fatto fuori banca io lo so ho visto ah dove è che cazzo è andato aia oio oio Cazzo cazzo di Reaper muori Mi hai fatto sprecare il Kunai with Chain vabbè intanto l'abbiamo tirato giù No merda ti stavo curando Cioè io sono l'healer e ho sette eliminazioni oro Ciao Stavo arrivando TREK Ciao Ottivi Ok no No eh Oh no Sono il mondo guarda Ciao Aruto Ciao diva Vengo a darti una mano? Hai un 4 benissimo Mostrami cosa sai fare Mostrami le tue boss Devo ancora imparare a uscire non è come combattere Ho eliminato la macchina Uno Ottiti Dai ci provo a fare schifo Si ha fatto Scala del martello Stato faccio Un martello Quanto era cazzo duro proprio Minch Buongiorno Ciao dog Dove vai? Qui sta Stai provato Aia Cassano Amico sul radar Ah ok Ok Yeee Apriamo il forziere E anche oggi Spacchettamenti Ah boh E anche oggi Merda E niente Questo era il primo video su overwatch Sicuramente ne faremo altri Anche con altra gente Spero E ci vediamo al prossimo video No Beh Paco non sei divertito Neanche tu No No No